All'altra parte, a sinistra, c'è un ragazzo che studiava al Baccaredda, a Serargius, si chiama Kotali, e adesso è primo in classifica, era con noi, era a Cagliari. A volte le soluzioni non sono così fantasiose. È un ragazzo che senza strafare sta facendo la sua onesta partita. Abbiamo visto che proprio da un suo intervento sull'Uvumbo, furbo anche, è partita l'azione del gol. Attenzione, Kotali era nostro, ferma l'Uvumbo, si fa fare un fallo che forse non c'era. Da lì riparte l'azione e dall'altra abbiamo un giocatore che ha tutte le giustificazioni del caso. arriva da un campionato primavera, è un giocatore con caratteristiche offensive.